il dramma che sta vivendo in questo periodo l'ucraina ha ispirato la rappresentazione in musica e danza proposta dall'unitredi lodi sotto i portici di palazzo breletto a lodi di scena musicisti e danzatrici dell'accademia franchino gaffurio e di coristi del monte alber impegnati nel va pensiero di giuseppe vero musicisti e danzatrici dell'accademia musicisti e danzatrici dell'assistente Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.